Ciao ragazzi, bentornati su Giovi HD Spon, benvenuti su PES 15, più nello specifico sulla modalità My Club. Questa sarà una serie, la chiamerò Walk of Fame e cercherò in qualche modo di animare nelle divisioni alte della modalità per l'appunto My Club. Come avete ben visto sulla pagina Facebook per chi mi segue, c'è un nuovo innesto, l'ho trovato nei palloni, nei palloni, l'ho trovato, sì ragazzi, l'ho trovato, l'ho trovato qui non su foot, strano ma vero, Cristiano Ronaldo CR7, qua ha un 95, mamma mia, fortissimo, spero di fare gol con lui, tantissimi gol con lui. E in divisioni ho già perso parecchie partite, una per disconnessione, altre due perché sono veramente scasso. Se avete consigli da darmi su come si gioca, più nello specifico, a PES, una modalità My Club, ditemelo perché io non so tanto giocare. Se mi aiutate mi fate un immenso favore. Dunque io provo e vediamo se si riesce a trovare qualche giocatore, perché fino ad ora ho provato e riprovato ma niente e vediamo ora se esce qualche giocatore. Ah, finalmente ho trovato un avversario. Dopo non so quanto tempo, ci mette veramente tantissimo nel trovare un avversario, ho dovuto ampliare anche le divisioni. Non so in che divisioni mi diti questo, però io che sono in dodicesima divisione, devo sfidarmi contro uno che sicuramente sarà più forte di me. Però non dobbiamo abbatterci e dobbiamo cercare di dare sempre il massimo. Ronaldo, il tiro di Ronaldo, fuori di fuoco. Ronaldo, la palla, il numero. Ronaldo, in aria, il cross in mezzo, spazzala, che cazzo va il coglione. Lancio per Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, il tiro. Ma dai, Ronaldo mio bello. Ronaldo, a tu per tu con il portiere, Ronaldo, il tiro, la parata. Ah, no, dai, no, no, bravo Neuer. No, dai, che saccazzo, bravo Neuer. Ronaldo, atterrato Cristiano Ronaldo. Eh, fuori gioco, perché cazzo fuori gioco? Sarà rosso, cartellino rosso, cartellino rosso. Bene, bene. E in pezzo è veramente facilissimo prendere cartellini rossi. Cristiano Ronaldo, palla per Cristiano Ronaldo, il tiro a vuoi di Cristiano Ronaldo. Il stop di destro, un tiro di sinistro. Cristiano Ronaldo, questo è Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo. No. Vuoi in attenzione la palla per Kubli? Il tiro fuori. Chini per Ronaldo. Cristiano Ronaldo, si libera. Ronaldo. Ed è viene atterrato. Sarà punizione. Punizione interessante. Da lì si può far male. Ronaldo. Palla per Ronaldo. Ronaldo, il tiro. E dai, cazzo. Segnala, segnala Ronaldo, segnala. Altro cartellino rosso. Proprio assurdo. In una partita tre cartellini rossi, come se piovesse. E tra poco terminerà la partita. Credo proprio di sì. Palla per Cristiano Ronaldo. Bravo Ronaldo. Driblati Ronaldo, driblati. Ronaldo, piazzala Ronaldo. Ronaldo. Fa tutto lui. Addormenta la difesa. Malzegna. Chiazzandola. 2-0. Doppiato di Ronaldo. Attenzione, pericolosissimo. Noier, esci, esci. Esce come un pulcino. Il pulcino. Maledetto. Sempre un gol bisogna subire. Un sacco di spazio. Sempre un gol. Va bene, non ci possiamo far nulla purtroppo. Purtroppo. No, 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 no. Eh, ma vaffanculo proprio. Ma porca miseria. Sto gioco basta che metti un giocatore fresco e ti fa doppietta come se... Se non fosse nulla, porca miseria. Si stancano troppo. Ma veramente troppo. E' veramente eccessivo. Ok che siamo all'ottantesimo. Però, porca miseria. Non può entrare un giocatore fresco e fare doppietta. Termina così la partita. 2-2, ragazzi. Veramente assurdo. 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 Non ho parole. Non ho parole. E dunque, ragazzi. Io direi di concludere qui il video. Una sola partita. Perché comunque devo... Se riesco. E se ho voglia. Mi alleno su PES. Ditemi se volete che continui questa serie. Se avete qualche idea su come potrei stilarla. L'ho fatta in maniera classica. Ovvero cercare di arrivare in dimensioni alte. Ditemi voi. Consigliatemi voi. Mettete mi piace. Mettete un pollice all'insù. Se volete che continui questa serie. Oppure di più giovi. Fai in più al campionato master. E io farò il campionato master. Dunque, ragazzi. Qui è Joey Sport. Vi saluto. Vi ringrazio. Sì, ah. Sì, ah.